Ancora cinquina il Muggia, stavolta la vittima è l'opicina. Altra vittoria della capolista, la prima conclusione di Dillapaine su punizione paracandido. Arriva Taogui ma l'ultimo tocco è di Vogue per l'1-0 del Muggia 2020. Guardate questo episodio, il trentesimo cade a Batangelo, l'arbitro lo ammonisce per simulazione, è il secondo giallo e quindi cartellino rosso. Episodio che fa discutere la squadra dell'opicina. Resta in 10, Spadoni il lancio, Taogui riesce a mettere al centro per Pipan che sbaglia, sottoporta, poco male. Siglerà al terzo minuto, due minuti dopo bella palla di Venturini, il filtrante e il bomber. Stavolta non sbaglia, 2-0. Tavgui al decimo riesce a servire Venturini, il suo destro a botta sicura, fermato dal palo. Altro episodio, fallo di Podgoresk, secondo giallo anche in questo caso e quindi l'opicina in nove uomini. 23esimo, d'avanzo, il calcio d'angolo, Vascotto respinge Candido, poi il tapin di Vascotto è vincente. 3-0. Al 26esimo, Venturini per la Paine, in sospetto fuori gioco, l'arbitro lascia proseguire ed è il poker del Muggia 2020. Axia su punizione, nessuno tocca ed è 5-0. Un altro festival del gol a Muggia si chiude con la rete di Diev di testa per il 5-1 finale.